Continuiamo a vedere maglie delle nazionali che parteciperanno ai prossimi mondiali in Qatar 2022. Quella che vedete è la seconda maglia dell'Inghilterra che appunto verrà utilizzata per i mondiali, nella versione FAN. La maglia da trasferta della nazionale di calcio inglese Nike 2022 è rossa, abbinata a Blue Navi e azzurro per loghi ed elementi di design. Ufficialmente i colori sono Challenge Red, Blue Void e Blue Fury. È la prima maglia da trasferta dell'Inghilterra principalmente rossa dai mondiali del 2018. In termini di design la maglia da trasferta della Coppa del Mondo d'Inghilterra 2022 è dominata da un colletto tradizionale che è blu scuro e presenta una grafica azzurra sul bordo. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclate al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica, un ulteriore passo di Nike e, in questo caso, della squadra inglese, verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Siete qua? Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende tre stelle. Mi piace il contrasto con il bordo, mi piacciono questi spacchetti laterali. Rimane comunque una maglia tintunita, quindi non prende un voto altissimo. Qui in alto vedete il costo, molto molto conveniente invece questo, e vi ricordo peraltro che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, ma soprattutto un link che potete utilizzare per ottenere un buono da 3 dollari. Non dovete fare altro che registrarvi e otterrete il voto. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione Fan. Grazie a tutti!